C'è un uomo per la strada per passare un corteo funebre stranissimo Due carri funebri, seguiti da un uomo con un pitbull gigante E dietro ci sono 50 uomini, solo uomini Tutti lì che confabulano fra di loro, che guardano l'orologio Tutti lì che confabulano, si chiede, questo Vede sta scena strana, si avvicina all'uomo col pitbull E fa, buongiorno, guardi, le volevo fare le mie condoglianze Ma cos'è successo? Perché due carri funebri? Eh, nel primo c'è la mia moglie L'altro giorno il pitbull l'ha zannata alla gola e lei è morta E nel secondo? Eh, nel secondo c'è la misocera Ha provato a salvare la mia moglie Ma il pitbull l'ha zannata anche lei e è morta anche lei Si chiede, l'uomo lo guarda, gli fa Guardi, so che non è il momento Ma che mi presta il cane? Ma guardi, se vuole glielo presto anche Si metta in fila che sono già lì che guardano l'orologio per averlo